Ciao ragazzi, sono Federico, sono un tutor già school, e in questa lezione vedremo le equazioni di secondo grado spurie. Incominciamo con un esercizio. x al quadrato più 4x uguale a 0. Svolgiamo i calcoli in primis usando la consueta formula x uguale meno b più o meno la radice di b al quadrato meno 4 per a per c, tutto fratto 2a. Ricordiamo, come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, che nelle equazioni di secondo grado la lettera a fa riferimento al coefficiente della x al quadrato, che nel nostro esercizio corrisponde ad 1. Poi abbiamo la lettera b, che è il coefficiente del termine in x, che nel nostro esercizio vale 4. Infine abbiamo la lettera c, che corrisponde al termine noto, ma nel nostro esercizio non è presente il termine noto, dunque c vale 0. Bene, adesso sostituiamo i numeri al posto delle lettere. Otteniamo x uguale meno 4. Infatti la lettera b vale 4, come abbiamo visto prima. Poi c'è il più o meno, e la radice quadrata. Ora abbiamo il termine b al quadrato, otteniamo quindi 4 al quadrato. Poi abbiamo meno 4 per 1 per 0. Infatti la lettera a vale 1 e la lettera c vale 0, come abbiamo visto in precedenza. Ora andiamo al denominatore, dove abbiamo 2a. Otteniamo quindi 2 per 1. Proseguiamo ed otteniamo quindi x uguale meno 4 più o meno la radice quadrata di 4 al quadrato. Ora dobbiamo calcolare meno 4 per 1 per 0. Meno 4 per 1 fa meno 4. Ora moltiplichiamo per 0 ed otteniamo 0. Andiamo quindi al denominatore e calcoliamo 2 per 1 che fa 2. Come possiamo notare, nella radice quadrata abbiamo ottenuto che il termine meno 4 per a per c si annulla. Questo accade perché la lettera c vale 0. Quindi possiamo dedurre che ogni volta che la lettera c vale 0, ossia manca il termine noto dell'equazione, il termine meno 4 per a per c si annulla. Proprio per questo le equazioni di secondo grado, che hanno questa caratteristica, si dicono equazioni spurie. Bene, proseguiamo quindi con l'esercizio. Ricopiamo x uguale meno 4 più o meno. Adesso dobbiamo calcolare la radice quadrata di 4 al quadrato meno 0, che è equivalente a calcolare la radice quadrata di 4 al quadrato che fa proprio 4. Inseriamo adesso il 2 al denominatore. Abbiamo quindi ottenuto due soluzioni. La prima è x uguale a meno 4 meno 4, tutto fratto 2. E la seconda soluzione è x uguale meno 4 più 4, tutto fratto 2. Calcoliamo quindi la prima soluzione. Abbiamo quindi x uguale. Ora calcoliamo meno 4 meno 4, che fa meno 8. Ora facciamo meno 8 fratto 2, ed otteniamo meno 4. Passiamo quindi alla seconda. Abbiamo x uguale. Ora calcoliamo meno 4 più 4, che fa 0. Adesso facciamo 0 fratto 2, ed otteniamo ancora 0. Dunque, le due soluzioni sono x uguale meno 4 e x uguale 0. Bene, riassumendo, abbiamo visto un'equazione di secondo grado in cui manca il termine c. Possiamo quindi scriverla in maniera generale con ax alla seconda più bx uguale a 0. Questo tipo di equazione, dunque, si chiama equazione spuria. Quando abbiamo un'equazione spuria, possiamo dire che una delle due soluzioni sarà sicuramente x uguale a 0. L'altra soluzione possiamo calcolarla con x uguale meno b fratto a. Vediamo quindi di risolvere la stessa equazione precedente usando questo secondo metodo. L'equazione è x al quadrato più 4x uguale a 0. Otteniamo quindi che una delle due soluzioni è sicuramente x uguale a 0. La seconda soluzione, invece, la calcoliamo usando x uguale meno b fratto a. La lettera b, come abbiamo visto in precedenza, vale 4, mentre la lettera a vale 1. Otteniamo quindi x uguale meno 4 fratto 1, ed otteniamo meno 4. Come possiamo notare, abbiamo ottenuto le due soluzioni x uguale a 0 e x uguale a meno 4. Le stesse soluzioni che abbiamo trovato nel primo caso, utilizzando la solita formula. Tutto chiaro? Se invece hai avuto qualche difficoltà, prova a riascoltare la lezione con calma. Prima di chiudere, ti ricordiamo di iscriverti al canale, oppure lascia un like o un commento se questo video ti è stato utile. Dal tutor Federico è tutto. Ciao! Grazie a tutti!